La categoria finale 3.000 punti riservata dalla categoria Nassimassi Lui ha munito il concorrente 114 Cassaldi Gattavo a munizione per il concorrente numero 114 Cassaldi Superato il traguardo dei 12 a termine è aumentato la distanza le 2.000 di prima siamo teniti a 3 metri Giro della Campania numero 11 non è cambiato tra alcuni termini che si è messo con il senso con il momento di giri e fa la direzione di Gattavo Primi punti in paglio sul prossimo traguardo punti volanti in paglio Targanko primo 10 bravo signorato il giro punti il giro punti in paglio e non riesci più di paglio anche per te la 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 unica di Gattavo la numero e la con corrente 211 Ritalmatia Occhio, segui, segui bene, fuori. Occhio, segui, segui, segui. Occhio, segui, segui. Occhio, segui, segui, segui. Occhio, segui, 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 segui. Occhio, segui, 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 segui. Occhio, segui, segui, segui. Occhio, segui, 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 segui. Dai, dai! Dai che siete soli! Dai che siete soli! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Via, via! Vai! Vai!